In Friuli tre giovani, un ragazzo e due ragazze sono dispersi a causa della piena del fiume Natisone. I tre si trovavano su un isolotto quando l'acqua ha iniziato a salire velocemente per le piogge torrenziali delle ultime ore. Sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco. Dopo la Danimarca, la Polonia e la Finlandia, anche la Germania autorizza gli ucraini a difendersi nel rispetto del diritto internazionale contro gli attacchi che arrivano da immediatamente oltre i confine. E questo anche con le armi consegnate, comprese quelle tedesche. Agiremo in modo deciso e proporzionato alle minacce la risposta di Mosca. Intanto il segretario generale della Nato Stoltenberg dice Tutti vogliamo finire questa guerra, ma il paradosso è che più ci prepariamo per il lungo periodo, prima possiamo terminare il conflitto. E alla termine della riunione dei ministri...